inarrestabile un olimpiade dopo l'altra la sfida dell'uomo che si misura con se stesso impareggiabile un olimpiade dopo l'altra lo spettacolo dell'uomo che supera i propri limiti seul 88 rai la sfida continua inarrestabile un olimpiade dopo l'altra la sfida dell'uomo che si misura con se stesso impareggiabile un olimpiade dopo l'altra lo spettacolo dell'uomo che supera i propri limiti seul 88 rai la sfida continua